Sono bellissime queste iniziative, perché mi sembra, infatti, una grande bellezza e anche questa situazione con Milano, perché per conti di Milano ci sono un po' che Milano era, diciamo, un cuore, un po' di conti e tuttora queste nominanze importanti di Milano, perché per questo ci sono sempre 40, parte da conti, insomma, parlare di conti e parlare di Milano insieme è una cosa che l'ha subito, ma naturalmente è un senso bellissimo. Nel senso che per fortuna che abbiamo fatto questo appunto, perché io getto il passo a lui su tutto questo sviluppo, quello che forse mi sembra importante da dire è che questa prima macchina che ha aperto poi la strada, il movimento, il desiderio sulle macchine, c'è stato fatto da conti con particolare entusiasmo, nel senso che stavamo alla fine della guerra, c'era questa idea del disegno per gli industriali. e in un certo senso, quello che posso dire io, è che in questa forma così anticipatoria, c'è un pensiero, nasce dal pensiero di dare una discrezione significativa alle funzioni delle varietà. ma questo si può trovare nell'intervento, cioè, si dice che i tempi, la cosa che mi ha fatto dei tempi, cioè ci sono delle istituzioni che sono spesse nella sua parte della macchina, pur essendo evidenti che poi come un museo si ricordo, cioè la spattane, la portica, la scala, il medio-dipete, il valore, il maioria, cioè ci sono cose, ci sono cose. portata alla lista del segnale diciamo dall'osservazione dell'ospettatore comunque pensatizzando che era una funzione a dare un bel è un bel compagno però ho cominciato il segnale questa idea di dare alle insinuazioni delle diversità un'espressività si ritrova come anche nella scrittura di Roma ed è un'articipazione di una di un'idea di una concezione che è proprio proclamata all'infasi che fa più avanti ancora però qui si riconosce anche il pensiero architetonico che si ritrova in Roma dal punto di vista della famiglia possiamo dire che questi tutto il lavoro che è stato fatto da Ponti con Maroli e di Sergi che comunque rimane una loro famiglia perché con Maroli è stato socio di Ponti per tutta la vita di lavorare per i conti per il suo nome per il Sergi era anche il genere quindi noi ci troviamo comunque in una stessa di cucina famiglia con la sua vera in corso della biblioteca di Giorgonti e che ha lavorato a mia non con la misoglia sono contento di questo mi sembra devo anticipo i complimenti che voglio fare agli scrittori e agli artisti di questo museo perché è eccezionale cioè se poi voglio di concentrare la vostra attenzione su un settore specifico ma avendo l'eco nel mondo di questa cosa cioè è veramente un racconto affascinante vedrete come il design ha messo mano a questi oggetti che diventano veramente facenti i fisici in l'anno allora io capisco perché è una cosa che sto fare per la protezione però per il cammino devo vedere sono bellissimi e per un altro attraverso la loro presenza una storia di Italia e anche del mondo della vita ecco grazie grazie grazie